Il giorno fine ci abbiamo messo cuore, anima e faccia e grazie a quel giorno 69 cani sono liberi e grazie a quel giorno Green Hill è chiuso! Quel giorno 13 ragazzi sono stati arrestati, noi vogliamo dire a quei ragazzi che gli siamo vicini non solo fisicamente, immoralmente anche che ci sono loro adesso a pagare, ma ci potrebbero essere mille, dieci o cento persone, ognuno di noi deve stare vicino a loro il 10 dicembre inizierà il processo, noi gli dimostreremo con tutte le parti che ci siamo, perché attivismo non è terrorismo! Attivismo non è terrorismo, attivismo non è terrorismo!